Ogni tanto... Sì, vabbè, sì, però ho capito. Vabbè, però... Non ho chiesto niente a Burioni. No, è passato tutto però. L'ho incontrato, ma tanto ho capito che non... Ma cosa, no? Non lui, non ci siamo, non c'è una cura, non si sa. Ma come non c'è una cura per il vino? Non si sa. Ma sei guarita, scusa, avrei preso qualcosa, no? Eh, ma è guarita fortuna. Ma che fortuna! Eh, fortuna, perché... Sono messa la collanina. Collanina? E quella della prima comunione. Sì, è una collanina invisibile. Non si nota, è quella che... Me l'ha regalata, è arrivato un signore. Chi è che te l'ha regalata? Ti porto questa cosa qua, di questo artista, di questo scultore. Beh, bellissimo. Io l'ho messa. Pesa? Pesa? No. È leggera? Sì, va bene. Però io volevo parlare di Sanremo. Ma che te la presti? Eh? Vuoi che te la presti? Non sono mica sorda. Senti, no, però... Però... Vuoi che te la presti? Sì, magari se ho voglia di fare una sera un po' lasciantosa, vengo a prenderla. E anche stasera non si fa l'intervista. La teniamo per la prossima volta. No, no, no. Ma sì, la prossima volta. Ma non ti offendere. Ma no, a me mi piace. Ma io sono contento di... Questa intervista qua la facciamo fa tre anni. Eh, va bene. Sì, ma è bello. Così va va. E ti sono auguri. Ma certo. Ma voglio fare una domanda preliminare. Avete visto Sanremo? Sì. Sì, tutto, fino alla fine. Dunque, vedere tutte le sere Sanremo viene a meningite. No, ma perché? Ma perché tutto questo... Un casino. Io non ne potevo più. Ma è stato... Scusa, facciamo invece un salutiamo Amadeus e Fiorello. Sono stati bravissimi. Bravi, bravi, bravi. Un lavoro pazzesco. Sono stati bravi. Pazzesco, molto. Amadeus è troppo rossa. Ma è tanta rossa, 30 canzoni. Beh, 30 canzoni. Troppa, troppa, sì. No, però bello. Io l'ho trovata... Io la serata che ho preferito è quella dei duetti. Certo, infatti quella è stata pazzesca. Beh, beh. Guardali qua, guarda qua. Guarda che eleganza, guarda. Sì. Fiorello, un bambino. È stato bravo Amadeus, si è scelto bene. C'erano delle belle canzoni, interessante. Beh, vabbè. Peccato che non lo fa. Secondo me deve farlo Fiorello l'anno prossimo. Lo dico perché so che gli metto ansia e quindi... C'è una... Ci sarà una gara... Ormai ci sarà una gara tra uomini e donne e siamo vestiti tutti uguali. Come siamo vestiti tutti uguali? Non ho capito. Le donne molto femminili. Molto femminili quest'anno, sì. Tutto molto bene. E anche gli uomini, devo dire. Anche gli uomini, alcuni... Quindi, devo dire, sarà una gara... Per uomini e donne. Una gara di bellezza. Va bene. Allora, io farei così. E di eleganza. Andiamo... Queste sono le foto dei look. Ecco. Per me, quando Emma me la vestono così, come... No. No. Emma sta bene vestita di nero. Perché? Che colore è? Rosa. Rosa, rosa. E beh, vabbè, insomma, ogni tanto a che cambiare non va mica male. Scusa. Non mi resta meglio. Come me, si provare, si provare. Va bene. Io propongo di mandare un riassunto di Sanremo. Prima, però, facciamo i complimenti a Loredana che ha vinto il premio della critica. Io devo dire a trovare... Il premio mia Martini. Mi ha detto giustamente torna a casa. Ma vogliamo dire che Loredana è pazzesca? Secondo me meritava anche più alta la classifica. Perché secondo me è piaciuta molto. Tanto la canzone diventerà... Bella. Beh, non c'è... Ma no, perché è molto divertente. Molto. Molto. E' molto piuttosto. Molto. Molto bella. Poi sentite, Luciana, cosa ha detto delle gambe di Loredana. Effettivamente... Bellissime. Gambe bellissime. Ma ha sempre avuto belle gambe. Sì, però adesso ha più di 70 anni. Quindi... Eh, ma le gambe... Regola. Ma le gambe? Ma le gambe? Ma le gambe? Sono di più. Allora, mandiamo in onda queste immagini di Sanremo. Prego. Bene.